Allenatori, vi ricordo che ci vediamo venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre a Lucca Comics con tantissime attività in programma. Iniziamo con venerdì 3 novembre, dove mi troverete tutto il giorno insieme a The Lars allo stand Pianeta Hobby, situato nell'area Lucca Junior. Inoltre, quest'anno, gli starter, in collaborazione con Nintendo Italia e The Pokemon Company, saranno presenti in fiera. A partire da sabato 4 novembre con un super raduno all'area palco Pokémon, alle ore 15, dove faremo foto e autografi con tutti voi. Poco più tardi, alle ore 17.05, ci troverete all'area palco centrale di Lucca, con la visione commentata di nuovissimi trailer di Ultrasole e Ultraluna. Domenica 5 novembre, giornata specialissima, perché giocheremo insieme a due grandi titoli di Nintendo Switch, dove avrete l'opportunità, tutti voi, di sfidarci sul palco. Rispettivamente, dalle ore 11 alle ore 12 con Pokken Tournament DX. Invece, con Mario Kart 8, dalle ore 15 alle ore 16. Io, allenatori, non posso fare altro che invitarvi a partecipare a tutte le attività, perché vi posso assicurare che ci sarà da divertirsi. Detto questo, vi auguro una buona visione. Ciao a tutti, allenatori! Sono sempre io, il vostro amico, Federic95ita, e bentornati su Pokémon Dark Rising. E qui con il 26esimo episodio di questa grandissima serie, sempre accompagnata da Delarze. Tumeranza! E se ragazzi, sempre noi, e chi se no, cioè... Ebbè, gli starter! Oggi dovremo affrontare Light, che è quel tipo che doveva avere, se non sbaglio, Conarp. Oddio, di nuovo! Conarp! Super Detective! Ma quanto era forte quel Conarp, poi? Ma no, ma... Stai scherciando, lo dobbiamo riaffrontare di nuovo? Sì! E basta! Attenzione, Fede, che caccia l'attributo... L'attributo fuoco. Basta! Dicevo, è il tipo che c'è Conarp, è stato avanti all'Andorus. E vabbè, di tutto e di più! Guarda, lo sta in fondo! Ci manca solo che ci sta WarGreymon, che si unisce con WarGarurumon. Non dico lo Ski Digimon. No, WarGreymon era lo stadio di Metal Garurumon, ok? Vabbè, comunque dobbiamo affrontare questo che capelli rossi. Va bene, ci sta! E non è Anna. A vero Mirko, basta ricordarci i cartoni animati della tua infanzia, quando eri piccolo, nel 45. Rossana, nel 45, nel 45, porco tu quanti anni aveva? No, e nel 45 avevo già 15 anni. Cioè, praticamente, sei nato allo stesso anno di mio nonno, che è nato nel 30. Ma in realtà abbiamo fatto il militare insieme, io e te. Sì, c'hai anche qualche foto vecchia da mettere su Insta, per caso. Sì che ce l'ho. Ma poi magari te la trovo. Guarda, voi non lo sapete che a me... Ah, su Instagram, ma c'era già? No, vabbè, raga! Che succede? Che succede? Che succede? Ma questo c'ha Landorus T a livello 90. Ma è come il primo Pokémon? No, come quarto. E il primo chi è? Il primo è Rayperior. Rayperior, ok. Sì, ma dai, ma è troppo forte. C'era il livello di Landorus è la posizione in cui ci metterà lui quando ci affronterà. Oh, via! Raga, fa delle mosse... No, fa con due. Ma con due! Fa delle mosse assurde, raga, troppo potenti per noi. Poi è l'Andorus T, l'Andorus T metto a 90. Eh, esatto. No, raga, è una bestia assassina, Lercia proprio. Però l'ho battuto, l'ho battuto. Ah, ecco, c'è stato due ore a lamentarsi. Però mi sembra una debolezza per quattro. Ma c'ha anche Teranitar all'85, raga, che fa Drago Danza. Con la Z. Sì, vabbè, cioè Teranitar così è illegale, però, cioè, vabbè, io ho bene tutto, mi voglio bene, però. No, Teranitar... No! È troppo forte! È troppo forte! I score, i score un attacco roccia, io attacchi roccia non ce l'ho, no, no, ghiaccio, ghiaccio su Ghiaccio, no, infatti ci stavo proprio pensando in questo momento. Ma anche acqua va bene, cioè, fai un po' più riuscire. Si fa con ghiaccio lo sciotti perché è debole quattro mare. Eh, non l'ho shoottato purtroppo. Eh, baffano. Vabbè, non era stabbato. Teranitar, Teranitar, lotta, assolutamente lotta, e le nascere... Nell'Erbana l'abbiamo shootta. No, raga, Teranitar è troppo forte, c'era... Taraniter è troppo forte Taraniter l'ho shottato con due colpi Meno male gli faccio qualche mostro tipo lotta Ciao Hagron Hagron soffre anche lotta Sì però non ha un per quattro mi sembra No Drain punch vai vai che mi ricarico la vita Vai vai così Ok mostro tipo fuoco su Hagron Oddio c'è anche Metagross Mamma mia l'immortale Electros Rimasto un PS Landorus T Landorus T allora la sua debolezza Ovviamente è acqua Sì Ok battuto sì comunque tenevo Cioè ho risposto a tutte e due sia a me sia a te Ah perfetto Sei multitasti Ok raga l'ho battuto ma adesso c'è Landorus da sfidare penso o no Io non lo so io sto facendo ancora Gli allenatori che tra l'altro sono le reclute Quindi cioè si capisce A me mi ha detto male raga Perché ho fatto il primo Idropompa e non è andato a buon segno Quindi lui mi ha attaccato Ma ha tolto abbastanza Il secondo è andato a segno Però non è bastato Benvenuto nel club Mirko Perfetto Mirko Allora Iperpozione Minchia so fino a tutte le iperpozioni Dov'andola a prendere Uh c'è uno che ci dà il fossile Ci fa scegliere tra due fossili nel deserto Sì Armor o Skull Fossil Armor Ok dovrebbe essere Armaldo Ma possiamo catturarlo Landorus raga Dopo Ma davvero Sì Scherzi A vita rossa Volendo se Oddio eccolo L'ho visto L'ho visto Prova a lanciargli qualcosa Sì aspetta e li faccio un po' di Volendo abbiamo la master ball Però io non la spreco È vero Iperosi A vita rossa raga Io ci cominciamo a dargli Le great ball Eh prova un po' Vedi un po' che cosa c'è Aspetta ma le ultra ball Non l'ho prese Eh le ultra ball Quando ne ho prese io 21 buone Eh no io mi sa che No la master Non voglio sprecarla Per sto robo Però io dovrei tornare Tutto indietro Per andare a Per andare a curare i pokemon Perché non voglio sprecare Le cose per Eh infatti No raga è forte cavolo Allora niente devo Ecco ipnosi Magari c'ho qualche Speranza È veramente forte Capito Eh eh Landorus Livello 70 Che dite È un po' da catturare Ma anche per la squadra Ma penso di sì Dai Non va la pena Mettere in squadra Sto coso Chissà quali pokemon Ci saranno È sempre un leggendario Che comunque Non va Non va Screditato Poi Cioè più avanti Quali pokemon Incontreremo Da mettere in squadra E quello è il punto Eh ho capito Non penso che ci siano Pokemon chissà cosa Eh no Magari scrivetelo Nei commenti Raga Per capire un attimo Eh ma potrebbe essere Troppo tardi Per quando lo scrivono Perché io mi sa che O lo prendo O gli lancio La master ball La master ball Vabbè raga Anch'io gli lancio La master ball Se vedo che è inutile Proviamo Io l'ho addormentato A vita rossa Ma si sveglia In continuazione Cioè se non so Riuscito a prendere Cazzo Perché La scorsa volta Ho finito tutte le ultime No Quasi Tristocco Oddio L'ho scottato Landorus L'ho scottato L'ho scottato L'ho scottato E mi sa che anch'io Dove usare la master Però non so se spiegarla Per questo cosa L'ho sbagliato Io Ho sbagliato Decisamente No Tritto Che ho fatto Mannaggia il diavolo L'ho shottato Ah cavolo No Zio Ho sbagliato Ho sbagliato Gli ho fatto due volte Terremoto Non si potava Ma io guarda Raga Io ho finito Tutte le Lo shottato Adesso Mirko l'ha shottato Sì Eh vabbè Eh beh io Oh Vi ricordate Sulla pixelmon Vi ricordate Sono sempre io Tu dici il vostro amico Ma io dico Io sono sempre io Il vostro killer Di leggendari Porca di quella No raga L'ho rinancio La master ball Per forza Non so se spiegarla così Una master ball Ma Boh Che dite Zio Io Perché non so Che pokemon Si troveranno più avanti No dai Mi ha buttato giù Per un soff Per un soffio perso Io la master Voglia la lancio Per l'andorus La prendo così Si ma è un buon investimento Secondo me Si poi Guarda dopo Ha riportato Cioè Fa un po' con che mi manca In squadra Ma rimane sempre qua Rimane sempre qua Una volta l'ho battuto Ma sul serio Ma lo hai catturato? L'ho catturato Ma rimane sempre là Wow Gioco dell'anno Questo Ma porco tu Ho spregato una master ball Eh no No non l'hai spregato Risfidalo Uccidilo Eh no Mi sa che il gioco Vuole che tu l'ho uccita Ma tu Mirko L'hai sconfitto E No io l'ho proprio Ammazzato male Ma porco tu L'ho sconfiggi L'ho precatturato io Vabbè 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 Ma se l'hai catturato Eh E vabbè Però Però c'è Giusto perché avevo finito le ultra Poi l'ho dovuto mandare la master Perché se no non l'avrei fatto Cioè Cioè sarei tornato indietro No Mi sarei fatto sconfiggi No Ok Questo vuole insegnarmi esplosione Ma esplode tua mamma No io Eh vabbè Io raga Però devo tornare indietro A curarmi la squadra Perché qua E vai Chi te lo vieta Ma Dani Tu hai battuto Ma questo non era il tipo che aveva Conarp Ma che non c'era più Conarp Eh meno male Conarp l'ha abbandonato Non Aspetta un attimo Ma tu non sei ufficiale Tu fai schifo Aspetta un attimo Ma Che sono un dici ma Cazzo quanto era brutto Conarp Sembrava un Charizard Uscito male Conarp Si Conarp l'ha fatto poco male Conarp è veramente brutto Si però comunque che schifo sta cosa Che per passare da città a città di Passare per sta cazzo di centrale Eh Io per esempio C'ho volo Però Non l'ho mai utilizzato Volo Manco io Eh no Non ci serve più che altro Ma l'hai visto Non ha tipo la mappa Quanto è grande Per l'utilizzare a volo Che non ho capito Probopass Minchia Pokémon inutile Raga ma Ci sta tipo un market A questa città O ci sta un centro commerciale Che c'è C'è qualcosa Ci sta una che fa le markette No Raga devo andare Assolutamente a cercare un centro market Io speravo di trovare qualche Pokémon figo qua dentro Non ho utilizzato i repellenti apposta Attenzione Charizard Larvesta Bello Porco 2 l'ho shottata pure questa Come basta Raga non mi controllo Non ci posso fare niente Allora Market mi prendo L'hyper potion Le prendo tipo Ragazzi attenzio No di più 30 me ne prendo 30 Rivalizzanti me ne prendo Tipo 40 Bon Ho preso il rubino Mi sono fregato un rubino Raga Rubino o zaffiro Attenzione perché di qua Ci resta un'altra volta l'allenatore Aspetta un po' un attimo Aspetta ma tu hai preso il rubino Sì Ma rubino non era quello che il rossofoco e verde foglia Te faceva prende No non ci credo Eh Vladimiro È ancora qui Vladimiro Cosa vuoi adesso Vladimiro Ancora sta la Vladimiro Minchia Vuole lottare ancora Vladimiro Ancora Basta A me non è bastata sconfietta Io voglio riprovare contro Ok l'ho sconfitto Ora devi catturare quello là Cazzo l'ho scusato le ulta Devo catturare l'Andorus Sì Meno male che solo Venosaura è morto Dai Vladimiro Ci puoi provare a sconfiggermi Ma secondo me non ci affai Ma devo sconfiggere Cioè devo catturarlo per forza O posso sconfiggerlo Puoi sconfiggerlo No puoi catturarlo E poi sconfiggere No io lo sconfigo Il gioco Ok sconfitto pure l'Andorus Il gioco è fatto male Inferno mountain C'è avanti Mi so preso 60 gritball Mi sono comprato Oddio Inferno mountain Carracosta Credo Sono passato per sta centrale Da due Duecento ore Vai Vai Basta ormai io ho fatto l'abbonamento Ma Ok Dove bisogna andare adesso? Scusa ma perché ti hai fatto buio Tutto un tratto? Ah ok perché ci sono le nuvole Sotto sotto Ci sta l'entrata dopo l'Andorus Che ti porta nelle inferno mountain Inferno mountain Mazza che nome figo Inferno mountain E ci sono ancora le reclute vestite di rosa dentro Quindi chi sa che Di rosa Ok qua c'è la prima recluta Che mando in campo Favoloso Qua tutti i pokemon di tipo Fuoco terra Buio Idropompa Per sicurezza Te paralizzo A scemo Il Razor Leaf La potenza di Razor Leaf Raga voi non potete immaginarvi Boom 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 Tutti fuori Si è emozionato Federico Si lasciate stava I don't need Ed Sludge bomb Su un tipo qua che non gli farà niente Però va bene Ok Waterfall Bene Vladimiro No No Ancora Tu battuto Game over Un'altra volta Sfidare quel tipo E basta Si Poverazzo Lui ci voleva provare Ma non c'è di Ma aspetta Ma Vladimiro No Mirko Non ho capito Ma è forte quanto al tempo Più forte No è uguale a prima Ma l'hai stronzo Raga dentro l'inferno mountain C'è uno che ti insegna Esplosione Se vuoi No grazie No Già se fossi stata una nuzzlock Già moi No no guarda Non mi serve Guarda Facciamo una nuzzlock Tipo Vabbè nuzzlock Vabbè è una bella mossa Esplosione Proviamo Proviamola Proviamola dai Boom Quello è il tipo che ci insegna Io sono Vladimiro E adesso te faccio vedere Quello che si può Parla di Groudom Ha parlato questa tipa Vabbè Pietro a focaglia Razor lift Boom Sono che c'è un bel problema enorme C'è un bel problema enorme Quale Cosa Aspetta Who are you No man's land Go there You are Gris Bruzo Raga ma ce l'abbiamo forza Eh non lo so No non me lo dire Non mi dire che mi deve sfidare Perché veramente Sono morto C'è Se ho provandato io Porca vacca Che figata Si trova golem selvatico Ah non ce l'abbiamo forza Raga è la fine Perché C'è che ti sfida Mirko Non ho capito Dentro ti sfida Un pezzo di sterco Forte Oh mamma mia Come lo dabbo Ragazzi arriva a un certo punto Delle inferno mountain Che stanno i messaggi in braille Quelli là tipo dei reggi Quelli con i punti È vero Ma Mirko dove cavolo è andato Non ho capito Tipo la sala incisa Tipo la sala incisa Oddio E sotto la Sottospecie di sala incisa Ci sta una stanza Con quattro darmani Tan forma zen Che custodiscono Tipo Una pietra blu E ci sta il capo Eh quello è lo zaffiro Eh esatto È proprio quello Che ho preso io È quello che tipo Quello è questo È qualcosa di rossofuoco In verde foglia Che figata Ma che figo Zaffiro l'ho preso Mi sa che dobbiamo affrontare di nuovo Ma questo non è lo zaffiro Questo è il rubino Dani Sbagliate Eh però ci sta il capo Che dice Zaffir Eh perché Se tu vai in borsa Hai scritto ruby Eh boh Va bene Il gioco è fatto male Oh no Dovendere il gioco Forse siamo noi Che abbiamo capito Male No Se tu vai nella borsa C'è scritto Vabbè Senti Ah dobbiamo di sfida Questo madonna Come livello 84 Basta C'è una certa Questi veramente Vabbè E scavalier Bene Non ci credo ragazzi Incredibile Ce l'ho No aspetta Non ce l'ho ancora fatta Sheninja Oh Ma raga Voi dovete vedere Come ho praticamente Dabbato forretress Ho fatto volo E lui ha utilizzato Esplosione Madonna Tipo ciaone Madonna Questo l'ho battuto Pazzesco MN Che cosa mi hai dato Bene Grazie Ok Sono arrivato Alla prossima città Meno male Meno male Mi ha avvelenato L'infame qua Io sfido sempre pure Usato tutti i miei revitalizzanti Che bello Porca troia E vabbè Stunige Vabbè 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 Saitama Vai Fagli un bel matchpatch Qua Boh Ok Matchpatch Matchpucci Caracosta 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 Vabbè ovviamente Erba O anche tipo Pyro Che li facciamo Facciamo un bel Thunderpunch Anche se è deboli All'acqua Però vabbè Thunderpunch Così un po' Vabbè Fatelo fuori Fatelo fuori Vabbè Vabbè Ho sto dribbly film Pure Thunderpunch Thunderpunch Dai Tuono pugno E vabbè Vabbè Full restore Allora 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 Io praticamente Vabbè Ah perché non ho fatto Storage prima Ma perché non ho fatto Storage No no Si vuole suicidare Oh raga Me lo scordo sempre Che il mio pokemon C'ha stonaggio Sempre Penso sempre Che c'ha Mosse eletto Stonaggio Regà Nella città nuova Ci sta uno Che si vuole suicidare Perché non ha Completato il Pokédex Ma su se che dice Si dice Dice voglio porre fine A questo Perché non ho Completato il Pokédex Oddio Ma perché Otti mi insegna Secondo me Secondo me È tradotto male Però non lo so Non lo so Magari poi vedi Eh Mi sembra Troppo strano Ottimi Insegnamenti Falco 2 Ok lo sconfitto di nuovo Vladimir Madonna però quanto è difficile Ogni volta Eh Vladimir Ho preso Ah ok Rubino L'ho preso L'ho preso Me lo porto a casa Quindi poi c'erano sia rubino che zaffero Pare E siamo nella no man's land Di un altro Ah no Forbidden sense Le sabbie proibite siamo Sii Però io direi di fermarci C'è stato estenuante Già Io ho battuto Sto battendo Vladimir Qua che mi manda ancora La zen mod Ancora che sta a batte Vladimir Con la zen mod Qual è che gli avevo fatto Amostra super efficace Eh Spettro Di tipo psico Di tipo buio Spettro Gli avevo fatto tipo stone age Mio gli aveva fatto male Sì Ok Stone age Buflant Tipo come tipo normale Vamo riammazzato Beh volevi fare Qua che Oh incredibile Comunque al momento È stato paralizzato Electros Non ha failato un turno Mamma mia raga Un mostro Un mostro sto pokemon Un mostro Ok Morto Modaglia da zen Via Ok usciamo Ma ci dà anche rubino Zaffino Non c'è niente Oddio ma c'è ancora il deserto Basta Si si è normale zio Comunque io posso interrompere Quando volete Perché sono arrivato Alla prossima città E ho già E aspetta tutti tutti Un attimo Io c'è un solo pokemon Non ho più revitalizzanti Sto affrontando Attenti No fermi 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 Non entrate Non entrate nella casetta Alla fine delle sabbie Perché c'è uno che vi sfida Ah perfetto A destra Cioè non c'è Quale un attimo di pausa In sto gioco Eh no Se per noi che andiamo Troppo veloci Avrei potuto anche Non dirvelo E fare il bastardo Eh infatti Come vi voglio bene In pene Perché poi Terminare l'episodio No Allora Io ci devo entrare per forza Perché tanto c'è Non è che me la capo Vabbè siamo ancora A 19 minuti Facciamo Hyper potion Hyper potion Hyper potion Hyper potion Hyper potion Ok cazzo Spero Che sono un po' cacchio Parlano Non è fortissimo Eh Vabbè ma io sto vedendo Un attimo qua nel deserto Se c'è qualche strumento Qualcosa Non c'è niente E infatti Io pure sto tornando indietro Si è fatto saltare in aria Ma ha sconfitto L'unico pokemon Che aveva Grazie Sì Vabbè Ok Io ho fatto Ho fatto questo tipo Qua dentro E stocchiamo l'episodio Ma quanti fa una Che agonia sto gioco Eh ma c'ha tutti i pokemon Ok Madonna però Ah ma c'ha Foridress che fa No incredibile Fa il bastardo Foridress Eh si è fatto saltare in aria Ah è vero Si è fatto saltare in aria Però non mi ha ucciso Io ho davvero Tipo con le ottero questo Ah si It will Ah cazzo Madonna Tutti poco con le ottero Fortissimi Cheezer Ok Cheezer Vabbè ho commesso di fuoco Li fai fuori tutti In un attimo Danni veramente Eh Sì vero Ma se fuoco Non avevo più Revitalizzati Avevo solo blasto Aspetta Sheninja Vabbè super efficace Perché c'è anche Sheninja Se non c'è Fuoco Roccia Sì Vabbè dai Ci ha dato anche L'HM04 Ok Fa stile Ogni volta Per tornare di là Devo rientrare Nella base Ok ragazzi Qua si vendono Si vendono le ultra Raga Aspettate ma questo Ci ha dato Strength Che dovevesse Forza Aspetta Dobbiamo insegnare Forza un pokemon Immediatamente Sì perché lì Nella grotta Si può Eh voglio Me lo fare Vabbè lo facciamo Nella prossima parte Dai c'è una prossima parte Sì Sono curioso di farla adesso Raga Eh dai Non facciamo Nella prossima parte Sono 21 minuti Fatemelo fa Lo faccio adesso Madonna Merd Sì Sì siamo a 21 minuti Non lo puoi fare adesso Sennò poi Non riesco a passarti I file Va bene Lo facciamo nel prossimo Se mettiamo l'hype Voglio andati a vedere Ragazzi Allora Voglio andati a vedere L'Andorus Quanto c'ha Perché l'ho catturato L'Andorus Alla Volante terra È buono È buono Con un attacco Di 197 Aspettavo un po' più forte In realtà Qua Eh Vabbè C'ha mosse C'ha rock slider Dove cazzo lo sono andato Non è male raga Non so che non è male Sembra un leggendario E poi c'ha sabbia soffice C'è Ah Qua in questa città Cosa c'è da fare di bello C'è un hotel Non ci sono manco entrato Ah c'è una palestra Con dollars davanti a me Guarda qua C'è dollars davanti alla palestra Non parlate Perché se no Quello coglione Ve sfida No no infatti E c'è misti sotto raga Sotto sotto c'è misti Ma non ci sono da parlare Sicuramente ve sfida C'è misti Buongiorno ragazzi Allora Per questo episodio È veramente tutto Noi nel prossimo Andremo ad affrontare La palestra E tante tante altre cose Noi ci vediamo Con il prossimo video Sempre e solo qui Sul canale Di Federic95 Ita Ciao 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 c'è Ciao c'è Ciao c'è Ciao c'è Ciao c'è Ciao c'è